Ciao ragazzi, io scrivo il mio nome ora J Ciao ragazzi, io scrivo il mio nome ora J Una U Fate, ok Così fate il mio nome subito Ok, Sabrina Francis Così conoscete il mio nome Dovete vederlo Ecco Ora la L L fa così La linea Così È sempre un L Ora la I I Ok E poi la A La E Ok A, P, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, O, N, V Q, R, S, T, O, V W, X, Y, Z Ora la N 2N 2 2 Ricordate per il mio nome 2N Ecco poi una A 2N 3N 4N 4N 5N 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 matematica 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 plus è plus o plus o in italiano più più uno più, uno fanno due equi due fanno quattro ora ora qui aspetta faccio la mia dita uno più tre uno, due, tre, quattro quattro, un altro quattro tre più tre uno, due, tre quattro, cinque sei stai non lo soppare stai aiuta dai dai fiori tre tre stai 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 io chiedo a dirci domanda a giuliana la matematica adesso lei deve rispondermi giuliana uno più uno fanno due uno più due uno, due, tre tre guardami quando rispondo tre due due più tre due due tre quattro, cinque, cinque tre più tre sei o quattro più quattro poi otto quá quattro più tre quatre lookin eh? 4 più 3 fa? 4 più 3... 7! 5 più 1... 6! 6! 5 più 3... eh? 5 più 3... 5 più 3... 5 più 3... 8... ultimo 5 più 5... eh? 5 più 5... 10... brava... ciao! Scriviti e iscriviti al nostro canale! Grazie a tutti.